Brutto incidente a Capaccio per un appassionato di parapendio rimasto impigliato ad un albero dopo essersi lanciato. Fortunatamente l'uomo ha riportato solo delle ferite ed un grosso spavento. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per tirarlo giù dall'albero ed una volta a terra è stato assistito dall'ambulanza rianimativa Santa Venere.